Chiara tu ti ricordi che la scorsa volta c'era un'armatura qua volante, una sorta di armatura E praticamente questa armatura adesso è scomparsa C'era un'armatura, no, mi sa che non c'era l'altra volta Certo, no no no, c'era, c'eri, c'eri, sei stupida ma non ti ricordi Allora praticamente Non mi ricordo, hai ragione, è da tanto che non veniamo qua Esatto, è da tanto E soprattutto sono felice di rianunciare la nuova serie di questa, insomma, il continuo di questa serie bellissima Allora, tu cosa ne pensi Chiara di questa serie bella? Sono molto contenta anche se un po' spaventata per questo mondo maledetto, sinceramente È vero perché dobbiamo tutti quanti ricordarci che qua ci sono cose molto scure e segrete Che tutti quanti potrebbero spaventarsi da queste cose E poi comunque qua ho trovato una spada che io non ho preso Eh, stavo fuori casa, ho visto Eh, sì, non so chi l'ha droppata sinceramente La metto da quella parte Non ho idea, sinceramente Io farei Chiara un giro veloce al, come si chiama, al quartier generale Perché là Perché anche per vedere un po' cosa è successo in questo tempo Se è cambiato qualcosa, no? Esatto E poi comunque io ho cambiato Allora, praticamente Non ho più il mio Tutte le mie cose belle La mia armatura, le mie cose belle Come no? Come non le hai? Scusa Eh no Ma le hai perse? Eh, in teoria mi si sono cancellate a quanto vedo Ma non so perché Poi non è Allora, a parte che ho la prima barra dell'inventario che è simile Poi il resto non ce l'ho più Cioè, è come se non ci fosse più niente Assolutamente niente Ma poi dove sei finito? E ho usato la staffa magica per volare Vieni, forza Ah, ok, scusami Allora, adesso io qua scendo Tu non scendere, per carità Perché sennò poi dopo questo è già un blocco strano Allora, ti aspetto qui fuori Che succede? Avevo ragione, avevo ragione C'è un'armatura che praticamente Me l'ha data Cioè, è come se qualcuno mi avesse dato un'armatura Che però non era mia E poi si stiutisce la tua Eh, sì Ma scusa, perché non riesco a prenderla Ok, l'ho presa Perfetto Ce l'ho fatta Sono stato un po' stupidino Ma ce l'ho fatta Devevo stare attenti Perché qua ci possono essere cose veramente pericolose Io mi ricordo la scorsa volta Non so più o mai che c'è da queste cose Esatto Poi, non so se tu ti ricordi Ma qua c'era stato un altro fenomeno tipo paranormale Eh Quella torcia prima non c'era Se non sbaglio Poi è comparsa Eh, esatto Si, esatto E poi comunque ho notato Che qua nell'inventario Mi è spawnato Una sorta di bussola Una bussola Sì, e quando l'ho presa in mano Mi è venuto un fulmine Perché è successa questa cosa? Domanda Mi sto un po' spaventando Qualcuno te l'ha data Visto che prima non ce l'avevi Cioè mi sembra la cosa più logica No, non so se prima non ce l'avevo Sai che non mi ricordo Potrebbe essere Non l'hai controllato prima Eh, eh, esatto Allora, praticamente però Questa bussola segna da questa parte In quel punto sta che Il fulmine è arrivato ora in testa Eh, esatto Quando l'ho presa in mano Quindi questo vuol dire Solo una cosa Cioè che c'entra qualcosa con questa bussola Chiara, io ti devo aspettare però Perché tu poverina Non hai tutte queste cose Insomma Eh, no, io non posso volare purtroppo Esatto Eh, lo so Sono una povera a piedi Sei una povera pia, hai detto? No, una povera a piedi Ok, forza Vieni con me Oh, cos'è sta roba? Chiara Cos'è quel coso? Sembra come un quadrato Inseguito da dei cubi Oh, via, 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 via Non voglio dire però Mi sembra la cosa più giusta da fare Allora, ferma un attimo Però io non ti voglio lasciare qua da sola Perché tu sei letteralmente da sola Io, cioè posso usare la stampa per scappare Sono qua sopra Dove? Dove sei? Qui, qui, davanti a te Ok, perfetto Scappiamo Allora, quel coso, come hai visto È un cubo È intorno a tipo dei cubi rotanti E io ora non so che cosa voglia significare E ci sta attaccando Ma che razza di creatura è questa? Ma ancora da lontano ci attacca Chiara è? Allora, sì, esatto Non ho capito cos'è che hai detto, scusa Da lontano ci attacca ancora Eh, sì È da lontano Sembra che lui ci veda È tipo una sorta di entità Un qualcosa di questo tipo Non so Ma l'altro entità mica ci prende da così lontano Chiara, parla bene per carità Perché già stai iniziando a descendere Scendere Forza, seguimi Vieni con me Allora, dobbiamo scappare immediatamente Da questa situazione qua Perché non va bene Cioè, nel senso È molto pericolosa come situazione Sì, è pericolosa Cioè, il coso viola che vola E ci attacca Sì, e poi non è normale Cioè, non ho mai visto una cosa del genere Su Minecraft normale Poi, vabbè Vabbè, su Minecraft normale Non c'hanno neanche queste armature Sì, è una bussola Esatto Oppure non c'erano nemmeno Quei fenomeni paranormali Che se tu ti ricordi Succedevano Appunto, nello scorso Minecraft Come i fulmini Le robe E poi comunque ragazzi Ho notato un'altra cosa C'è la notte perenne Ah, è vero Non viene più il giorno La luna è bloccata là Sì, sì È continuamente notte E non so come mai È come se fosse stato bloccato il tempo Come se fosse stata cambiata la game rule Ma io, perlomeno, non ho fatto niente Poi sono l'unico detentore dei poteri qua sul server Ma infatti, perché tu dovresti mettere la notte poi? No, infatti non avrebbe senso Il giorno è più splendente Siede di più Ahia, qualcosa mi ha colpita Cos'è che ti ha colpita? In che senso? Non ho idea Ma qualcosa mi ha colpita E voglio solo scappare ora, sinceramente Eh, ti capisco Allora, ferma un attimo Io qua vedo ancora che la bussola sta continuando per questa strada Ma io qua mi pare di aver visto qualcosa Non lo so Come hai visto? Scrivetemi nei commenti ragazzi Se vedete cose strane Perché chiaramente abbiamo bisogno del vostro aiuto Se è vero che c'era magari qualcosa da quella parte Ditemelo per carità Perché non vorremmo mai perderci cose importanti E magari un indizio Qualcosa che ci aiuta a scoprire la verità su questo mondo Esatto, potrebbe essere un indizio Qualsiasi cosa in realtà di questo mondo potrebbe essere un indizio E poi comunque Guarda che strano bioma, scusami Perché c'è tutta la terra brulla, tipo Eh vabbè, gli alberi blu, scusa Oddio, cos'è? È vero, gli alberi blu Dennis Scusa, ma cos'è sta roba? Anti-gravity ring Cioè, è un anello di anti-gravità, mi sta a dice Ma è caduto dal cielo, eh Io l'ho visto cadere Ma io posso volare? No, fermo un attimo Ok, questa cosa la puoi tenere tu La devi schiacciare Grazie Eh sì, tanto per... Io la... La sta fa... Oh, porca miseria No, 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 Chiara Quando l'hai presa tu È venuto un fulmine È caduto un fulmine per terra Com'è possibile? Allora, stai... Vedi, stai volando Però sveglia Ma che bella cosa È bello, sì Però devi stare sveglia e parlare Parla! Parla! Parla, sì! Ok, bene Ma sto ancora volando Ehi, 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 ehi Cioè, ci sono i cubi, Chiara Vieni, 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 vieni Via, 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 via Via, attenta Non volare... Credo di non sapere usare ancora questo anello Non ho capito... Credi di non sapere usare ancora questo anello Mannaggia, te scandisci bene le parole Se no ti devo uccidere bene Eh, perché male non posso ucciderti Ma bene ti posso uccidere Allora... Va bene, grazie per uccidermi bene almeno Eh, esatto Guarda che continua a spararci quel coso da lontano È appunto un cubo Rotante con dei cubi intorno Come se fosse una sorta di pianeta Con i suoi satelliti intorno Come la luna e la terra Però è solo un cubo E secondo me C'entra qualcosa con l'anello dell'antigravità Comunque andiamo perché non... Secondo me... Ah, quindi quest'anello c'entra qualcosa, dici? Potrebbe centrare perché appunto gravità... No, dai, prima volta che trovo qualcosa di buono Non è giusto Eh, magari è una cosa buona Certo che se qualcosa ci colpisce in realtà non è una cosa buona Quindi sinceramente non saprei Però da questa parte vedo che c'è... Si prosegue da questa parte La bussola continua a dirmi appunto che dobbiamo andare da questa parte Quindi Chiara, io ovviamente volerò con la staffa Però ti posso aspettare Quindi assolutamente Ma io voglio quell'antigravità, dai, ci sta Ah, vero che tu hai l'anello... Ma porca puzzarda Per fortuna che... Se lo siamo ricordati Scusa, ma là c'è una... Tipo piramide che si stava materializzando davanti a me Che poi stava scomparendo Io non vorrei dire... Eh, là davanti Io non vorrei dire Ma secondo me c'entra di nuovo qualcosa con... Qualcosa di strano tipo... Oh, no, aspetta Ma io vedo... Ah, no, forse è un villaggio Eh, esatto È un villaggio che si stava materializzando E poi scomparendo di nuovo Questo è un po' un problema, Chiara Non vorrei dire Ma è un po' strano Perché il risultato li carica subito Eh, esatto Magari siamo solamente paranoici Non iniziamo a dire tutte le cose, insomma Che non vanno bene Che comunque sono strane Perché potrebbe essere Semplicemente una cosa normale Potrebbe essere anche un difetto di generazione del mondo Sì, ci sta alla fine, dai Eh, sì Può capitare che non si bugga E comunque non carichi le cose Esatto Può capitare anche su Minecraft normale, veramente Quindi non diciamo cavolate Però Da questa parte io vedo che la bussola sta iniziando un po' a girarsi Cioè nel senso, secondo me La parte sta diventando sempre più vicina Eh, secondo me Eh, sì, perché se si gira si è più vicina Esatto Chiara Io ora non vorrei dire Ma secondo me è qua vicino Cioè nel senso Ma sei sicuro? Cioè già così vicino? Sì, sì, sì Perché io posso vedere anche le coordinate Che fra l'altro si vedono pure qua Ora io non vorrei dire Però praticamente si vedono Eh, vabbè Non posso far vedere Praticamente in alto a destra c'è la mappa E io vedo le coordinate a 609 Della mappa sotto Sì E poi qua Ok Ve le coordinate a 601 E siamo praticamente Allora quindi siamo vicini Cioè quindi siamo proprio Vicini vicini Eh, esatto Sì ma scusa ma come mai questa cosa? Chiara? Ma ho notato una cosa La bussola si è spostata Ma come si è spostata? Quindi è qua vicino e mi stai dicendo? Sì, comunque io a volte ti sento un pochino di eco Eh, dietro di noi, dietro di noi Oh mio Dio Scappa, scappa, scappa Non ti devi fermare Veloce, andiamo No, no, no Se questo cosa ci fa fuori Io veramente non so cosa dire Perché comunque siamo arrivati ad un Ad una certa Ad un certo risultato, no? Cioè che sarebbero appunto queste foreste Questa foresta qua di alberi bianchi Una foresta un po' più normale diciamo Rispetto alle altre Esatto E poi adesso ci sta portando verso le bedlands Che non so in realtà cosa sono Cos'è le bedlands? Attenta, ci sono altri cosi che volano Mi ha dato fuoco! Eh sì, danno fuoco E appunto Sono altri tipo Vedi, è come se ci fossero più livelli È come se ci stesse Testando tipo Non vorrei dire qualcosa di stupido Però insomma come se appunto ci stesse Ha senso per vedere quanto siamo forti? Eh, tipo Ma non so in realtà Adesso ti vedi Magari adesso vedi che In realtà è una cosa Una cosa buona Insomma una persona buona Che ci sta facendo queste cose Che in realtà ci sta testando magari Però io ne dubito Oh, ci sta aiutando un po' per Eh, magari per allenarci Perché dovremmo combattere con qualcuno forse Eh beh, forse Non lo so Potrebbe essere Ma questa è una mia ipotesi Che in realtà non c'entra assolutamente niente Ma poi Scusami eh Ma cioè adesso Il prossimo obiettivo è stralo È lontano Attento dietro eh È lontanissimo Io ora A parte che Insomma mi riporta un po' indietro Porca puzzarda Non va bene questa cosa Perché se mi riporta indietro Poi dopo io cosa faccio? È Super di puzzoli Devi andare sempre avanti È esatto E quindi Insomma mi fa un po' vomitare E così qua Per fortuna Oh, no, no, no Chiara No, no, no Dobbiamo scappare? No, 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 no Qua ci fanno fuori Ci fanno fuori Per carità Per carità Ma il tutto può spawn Sempre vicino a noi Ma danno fastidio Non ci sono quando arriviamo Ma più che altro Questi cose danno fastidio Cioè poi dopo Scusami eh È tutta notte Ci sono solo queste cose Che ci inseguono Mi sembra strano comunque Altri Io altri mob non ne vedo eh Eh, esatto Mi sembra strano Che non ci siano altri mob Perché poi comunque Non so se ti ricordi Ma c'erano orde di mob Cose veramente Epoca Prima sì Ma tipo una volta Tutti gli zombie Ti ricordi? Eh sì 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 Esatto appunto Era quello che intendevo È proprio quello là Cioè c'erano appunto Quelle orde di zombie Di mob Cose strane Cose allucinanti Mai miste in Minecraft Quindi Infatti Infatti Non capisco perché Invece non sono questi cosi Sì Comunque scusami un attimo Ma è un po' un problema Questa roba Del fatto che ci riporta indietro Cioè nel senso Continua a riportarci indietro Non va bene È un po' Stupida come cosa No? Cioè non va bene Non va bene Poi dopo Vomitiamo e non va bene Allora quindi andiamo a piedi Per carità Perché sennò poi dopo Dove sei finita Chiara? Chiara ma dove Caspita eri andata a finire Ma vuoi che ti uccida io? Mi hanno portato in una caverna Tutto strano Tutto buio Ora sono tornata qui Ma che cosa stai dicendo? Ti devo uccidere Ma ti sembra No è stata colpa mia Giuro Non ho fatto niente io Porca miseria Ti sembra il caso di sparire Quando succedono queste cose È una cosa veramente Scusa io veramente Vabbè senti Lasciamo perdere questa cosa Perché veramente A volte mi fai incazzare Tu e anche Tutti gli altri Guarda Non voglio più saperne Assolutamente niente Sono offeso A morte Forza andiamo Dobbiamo pensare a questa situazione Sì 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 andiamo Pensiamo a questa situazione Di schifosa proprio Per non dire qualcos'altro E comunque Appunto Stavamo dicendo Che ci sta continuando A portare avanti e indietro Ma io non vorrei dire Cioè indietro no Però insomma Avanti sempre avanti Il punto è che ci sta portando Davvero tantissimo avanti A 3.000 blocchi di distanza Uno zombie Uno Due zombie Tre zombie No 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 Non mi dire che iniziano Cose così Porca miseria Eh no Chiara Chiara ferma un attimo È la fine È la fine Te lo dico Eh mi sa che è la fine Davvero però Perché qua sta succedendo Un lag del Insomma Non vorrei dire Però non è che Non è normale Ciò che sta succedendo Eh ma forse Lagga così tanto Perché sta caricando Qualcosa di pesante Eh chissà cosa Perché lagga sempre di più Non lo so Ma infatti Guarda che è strano eh C'era il senso È come se ci fosse qualcosa Perché poi questo server Ha tantissima RAM È anche un buon server Un buon host Quindi mi sembra davvero strano Che stia laggando Secondo me Lagga perché Ci potrebbero essere Delle situazioni Che sta caricando Sì c'è qualcosa di pesante Sicuramente Appunto Comunque tipo Delle entità Che il processore Magari tipo Il server deve mandare avanti Che non riesce a caricare Secondo me deve essere così Oppure tipo delle Intelligenza artificiale Strana Non lo so Qualcosa del genere Oddio addirittura dai Eh comunque L'entità secondo me Sono intelligenze artificiali Perché comunque Non è che possono essere Non lo so Veri hacker Cioè almeno Per quanto ne sappiamo No dai non credo Veri hacker Non credo proprio Sinceramente Perché chi si metterebbe Qua tutti i giorni E beh speriamo di no In effetti Dai cioè Mi auguro di no Mi auguro di no E niente Continui a riportarmi Porca puzzarda Io davvero odio La bussa Sempre di qua Sì 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 Ma è a 3000 blocchi Di distanta noce Eh no 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 Qualcuno qua Mi ha spawnato Uno zombie vicino Chiara Mi ha spawnato Uno solo? Eh sì Ah ok Meno male Uno solo Da nulla In pratica è arrivato No buono Io ho preso questa spada Che è più potente Comunque Poi ho anche la mia staffa Super forte E super potente Quella là che fa Fulmini Molto buona Secondo me Questa qua Oh cos'è sta roba? Ma cos'è sto coso? Tipo un altare? Cos'è? Un pinz stallo? No ma infatti Ma infatti ma cos'è? Ma è tipo una sorta di checkpoint Ma scusa No sono stato io Ma questi fulmini a caso? Eh no mi sa che Sono stato io con la staffa Ah ok Meno male Pensavo Eh sì No ma guarda Secondo me C'entra qualcosa Questa entità appunto Ti ricordi che la scorsa volta E questa roba Si chiama Demon Crystallizer Cioè praticamente Cosa scusa Com'è che si chiama Demon Crystallizer? Sì sarebbe tipo Un cristallizzatore di demoni A quanto ho capito Non so bene Quindi l'entità Con che abbiamo a che fare Un demone? O un qualcosa Del genere? Eh potrebbe Assolutamente centrare Tutto questo con i demoni Chiara veloce Veloce Forza Finalmente? Eh sì Finalmente Comunque guarda Ma dici che ci siamo arrivati? Eh ci stiamo ancora Ci vuole ancora un po' in realtà Ci stiamo avvicinando Ah pensavo fossimo già arrivati Peccato Eh guarda In realtà siamo molto vicini Adesso siamo a 1930 E qualcosa Però la coordinata mi dice 3186 Quindi siamo praticamente Quasi arrivati Ormai qua è un deserto Tipo Quindi direi buono Assolutamente Quindi se è un deserto Mi stai dicendo? Allora Bedlands sarebbero Esatto Sono quelle robe là Là davanti Quelle robe tutte colorate E Non so in realtà Perché ci stia portando Alle bedlands Eccetera 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 Ma cosa sono le bedlands? Chiara cos'è quella roba in cielo? Chiara Cosa? E' tipo un player Ma cos'è? Ma non è un player Chiara Cos'è? Ma è un'armatura Come l'altra volta Chiara Ma è un'armatura Ma infatti Chiara ma cos'è sta armatura No no benissimo Ma porca miseria Devo Madonna mia Adesso passo Sono stufo Sono stufo Vai via